Siamo stati alla presentazione stampa di Fake News, il nuovo album dei pinguini tattici nucleari, e abbiamo scoperto alcune cose interessanti che vogliamo condividere con voi. L'album nasce durante il periodo della pandemia, e infatti ci sono diverse tracce con tematiche quali solitudine ed esorazione, che sono uno strascico di quel periodo. Come tutti non l'hanno vissuto bene, e non volevano essere ipocriti, portando esclusivamente canzoni felici. Il titolo nasce durante una vacanza, infatti tra di loro stavano ragionando proprio sulla tematica del Fake News, argomento che tra l'altro li ha toccati molto da vicino durante questo agosto, con tutte quelle voci sul loro scioglimento e sulla carriera solista del From. Infatti ci tengono a stognare più volte che loro sono una band e non dei singoli artisti. Durante questi anni hanno ricevuto diverse offerte per andare a fare sia programmi che roba da influencer, ma hanno rifiutato sempre perché la loro testa è completamente sulla loro musica. Con quest'album hanno provato in parte a sperimentare e in piccola parte a distaccarsi dal pop e dall'indie. Zen, traccia l'apertura di questo disco, nella prova. Infatti tra tutte le 14 tracce è quella che trovo più interessante. Musicalmente parlando potrebbe essere tranquillamente un beat per un pezzo rap, e quell'intro sin da subito ti dice che quest'album sarà sicuramente diverso dai lavori precedenti. Poi ci sono tracce come Fede, dal forte animo rock, o anche tracce con tematiche difficili come Kikomori, dove hanno cercato di creare un parallelismo tra gli Kikomori e una coppia durante il lockdown. Naturalmente non sono la stessa cosa, ma in entrambi i casi hanno in comune un disagio psicologico da non sottovalutare, naturalmente in differente modalità. La forza di quest'album è che contiene 14 possibili singoli. Trattasi, dopo diversi ascolti, di uno dei migliori album del mainstream pop italiano degli ultimi anni. Un album studiato per essere portato su palcoscenici maggiori di quelli calcati finora, infatti le due date da San Siro ne sono assolutamente alla prova. E dati alla mano, comunicati direttamente da Maggiorano Concerti, la seconda data ha già venduto oltre 46.000 biglietti. Se lo aspettavano? Assolutamente no. Inizialmente, quando avevano letto il contatto per la prima volta, leggendo due data da San Siro pensavano infatti ci fosse un errore e inizialmente gliel'hanno anche fatto credere, ma puntando molto su di loro, le due date erano già state bloccate. Cosa aspettarsi da questi live? Sicuramente tracce adattate e riarrangiate, perché sono ben consapevoli che questi non sono semplici live, ma sono dei veri e propri show. Cercheranno di portare loro stessi e la loro storia, portando anche oggetti che riporteranno le loro canzoni o momenti che hanno citato. Tutto è ancora in fase di lavorazione, ma pensando anche canzoni come Dentista Croazia dove citano quel camioncino che loro hanno ancora, chissà che non lo vedremo sul palco durante tutto il loro tour. Arrivare a certi risultati prima dei 30 anni non è assolutamente facile. Partendo da Bergamo, passando poi per stage diving con 300 persone a Bologna, 50 persone a Roma la loro prima volta, prendono una marea di pioggia, arrivando fino ai 1000 spettatori paganti ancora da artisti indipendenti. Sono consapevoli che il successo come è arrivato può anche andare via e quando succederà sperano naturalmente di essere pronti e trovare il miglior modo per potersi alzare nel minor tempo possibile. E voi? E' piaciuto i fake news? Cosa ne pensate dei pinguini tattici nucleari?